Ah! Cosa vedo nei miei occhi? Il principe Giovanni in persona, che è un immenso piacere fare la vostra conoscenza. Come siete bello. Beh, il piacere è tutto mio. Beh, grazie. Lui è il mio fidato consigliere, Biss. Biss? Che nome buffa? Eh, Pigi? Come mi hai chiamato Pigi? Mi piace davvero, Biss. Mi hai sentito? Mi hai chiamato Pigi? Che soprannome? Mi piace, sì. Spiritoso, non vi ho mai visto prima d'ora. Chi siete? Sono Serregida, Ducca di Whisky. Ti ritento quella lingua, l'ombrica. Beh, dove sarà finita la mia buona maniera? E ora permettetemi di baciare la vostra madre. Ah, no, no, no. Perdonatemi, ho perso più gioielli. Beh, come posso spiegare? Beh, accomodati. Grazie, Pigi. Siete davvero generose. Ma che succede? Scusa, Puzzetto. Puzzetto? Voi, signore, avete preso il mio sedile. Puzzetto? Beh, questo sì che è il tuo soprannome. Che buffo. E ora vai in giro, tieni gli occhi aperti da serpente per chi sai bene tubi. Voi? Volete dire che sono congelato maestro? Hai sentito suoi cialanzo? Avanti, spadisci e clizzati, lombrico.